ciao 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 ragazzi ciao di nuovo allora oggi vi voglio far vedere come fare un spray paint con un occhio in un modo molto semplice efficace veloce ed impattante allora cominciamo subito all'inizio intanto procuratevi un cartoncino lo ritagliate una forma rotonda il formato che ne avete bisogno così come questo così come quando fate dei pianeti poi andando una bomboletta segnate il mezzo fate un buco nel mezzo e così viene fuori così allora in questo modo qua è molto facile fare un altro guardare leggermente un poco di bianco poco di azzurro diciamo che ci potete mettere i colori che volete sempre ricordati i colori che si mettono sotto saranno quelli che usciranno fuori che si mischieranno tra loro e vi doneranno quegli effetti quelle strutture l'ordine del foglio questo modo qua questo punto lo sono appoggiate sopra e con la mano fate questo movimento qua e qua ci abbiamo avuto una base ok adesso ci faccio qualche ombra di lato lascio un attimino se volete asciugarlo nel modo più veloce prendete un fuono per i capelli funziona benissimo allora ci mettiamo quasi appoggiamo questo sopra nel centro questo punto questo punto mettiamo il colore da una parte così a forma di occhio che questo ci aggiungiamo così e con il bianco poi ancora il nero adesso riprendiamo il nero c'è una passata qua e qua questo punto prendiamo la carta vedete il colore che aveva messo sotto quello che viene a morire prevalentemente la rosa quindi è quello che riesce di più a rosa un po' di qualche sfumatura in azzurro e qualche sfumatura in azzurro vedete adesso bisogna fare il sopracciglio e facciamo anche in un modo molto veloce e semplice come questo qua a questo punto cambiando la mano ecco fatto chiudiamo qua con il nero questo qua sarà questa parte ripartiamo allora via un po' di azzurro un po' di giallo il nero il nero il cartoncino ci tiriamo giù un acqua con le cascate velocemente ecco fatto adesso con questo chiudiamo ci possiamo fare qualche contorno con la spadolina in questo modo qua così risaltiamo un poco di più le pietre che stanno qua giù qualche stellino azzurro nel cielo ecco fatto voi ragazzi qui c'è un paint con un occhio volevo farvi vedere questo metodo molto veloce efficace impattante per farlo spero che vi è piaciuto e come sempre ciao a tutti io sto qua e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao